consapevolezza il bicchiere dei phoenix suns mi sembra senza ombra di dubbio il tema più caldo più chiacchierato e anche forse più interessante di questo inizio di playoff bicchiere mezzo pieno perché da una parte nessuno forse nella lega può mettere in campo la stessa qualità che può mettere phoenix palla in mano sottolineo palla in mano cioè dal palleggio per quantità e per varietà di soluzioni e di interpreti prima arriva phoenix e poi tutti quell'altro dalla stessa parte di bicchiere mezzo pieno e ci sono due vittorie 2 1 nella serie c'è per esempio stanotte il miglior devin buker su entrambi i lati del campo cosa particolarmente non scontata soprattutto se si guarda a ritroso nella carriera recente e non di devin buker il miglior devin buker dell'anno e forse forse anche anche però dalla parte opposta di bicchiere mezzo voto è di tre partite una l'hanno persa quell'altri tutte l'hanno giocate senza paul george stanotte anche senza hawai leonard e se vai a vedere bene fosse che fosse entrato questo tiro qui io non lo so mica come andava a finire anche la partita di stanotte per cui è boh phoenix non ci si capisce una mazza questo è il punto la mia sensazione tutt'altro che formata perché il periodo di adattamento di heidi che doveva esserci pronti via una volta arrivato dopo la deadline si è fatto male nel riscardamento per cui lo stiamo vivendo adesso durante i playoff però la mia sensazione che i problemi che c'erano l'anno scorso di natura interpersonale di rapporti tecnico tattici anche all'interno dello spogliatoio so tutti lì dove erano e nessuno l'ha toccati e piccolo spoiler ritorneranno fuori con l'andare avanti dei playoff però in questo momento qui la presenza di heaven durant garantisce un mood un piglio una consapevolezza dei propri mezzi a questa squadra qui che è completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso quanto a fiducia in se stessi squadra dell'anno scorso rispetto a questa ma ogni lega manco le scarpe e in effetti poi si vedono anche i risultati dice no potrebbe essere clippers che se non vado errato tradotto direttamente proprio dai vocabolario dall'inglese significa rimpianto yattura shagura disgrazia sforzo t mardaway junior le peggio cose proprio che ti possano capitare nella vita ti presenti ai playoff senza paul george ti si rompe hawai leonard che hai protetto in qualche modo faticosamente per tutto l'anno dall'inizio dell'anno cintura nera quarto dan di load management invece niente ti si rompe anche lui ragazzi cioè è difficile ti fa clip per sé io veramente vi sono in cuore non è facile anche perché poi quando gioca fa proprio categoria a sé cioè capito specialmente ai playoff lui fa proprio parte di una specie di per conto suo il resto della squadra c'è perché la squadra è lunga la squadra è completa ci sono tanti elementi ci sono tante soluzioni c'è uno staff tecnico il problema è che poi il semplice fatto il solo fatto di essere un clipper ti pone automaticamente dalla parte più difficile della strada per poter provare a raggiungere un obiettivo c'è un solo uomo nel mondo che potrebbe essere in grado di rompere la maledizione prima di tutto perché non lo buti giù con niente criticato offeso bistrattato battezza lui non sente niente cioè lui va per la sua c'ha un motor come lo chiamano dall'altra parte dell'oceano che fondamentalmente non ci può avere niente a che fare ripeto coi limiti coi difetti con le particolarità di giocatore però forse potrebbe essere davvero l'unica possibilità di provare a sfuggire al malificio clippers cioè affidarsi a westbrook a questo punto è andare dietro a lui che tanto non sente niente perché non ha consapevolezza di se stesso non ci sta con la testa capito cioè è immune da tutto il resto io ci proverei tanto è a questo punto qui e che c'hai da perdere scorciatoie quelle sacramento non ha preso in questi anni per tornare laddove pensava di meritare di poter stare niente trade incredibili da nba 2k niente fantamilioni di giocatori che arrivano ripartano rimbarzano spariscano no le cose semplici fatte anche di sconfitte fatte anche di umiliazioni di batoste di errori però piano piano sacramento ai playoff c'è tornata col basket quello bello pick and roll palla dentro palla fuori cose facili cose che ti danno fiducia il basket che insegna il primo coach of the year unanime della storia e anche in questo caso due o tre cose ci sarebbero da dirle perché i poro marrone la gavetta l'ha fatta tutta bistrattato lui pure passato per essere i babysitter di lebron piano piano negli anni col sudore la fatica la considerazione che ha visto crescere delle varie esperienze la palacanestro prima o dopo i suoi debiti li ripaga sempre e allora mi chiedo ma che bisogno c'è di far sta roba qui è evidente che se lo trattieni draymond green perde i capo e sbrocca è come se metti un microfono in mano a barca e la boiata te la dice ma veramente questa cosa qui va a pro dei sacramento kings non sarebbe meglio non stuzzicarli gli warriors lascialli fare proprio lascialli cuocere nel loro brodo di insicurezze e di disperazione che stanno provando a cucinare a fuoco lento dall'inizio della stagione io non credo che sacramento debba necessariamente buttarla in cacciara anzi potrei sbagliarmi e sto per dire una cosa molto forte al riguardo però di solito sono le squadre più deboli in quel momento lì che tirano a fa casino perché non hanno altri mezzi le squadre più deboli in quel momento lì quindi non sacramento focus è il problema annoso storico di questi warriors dall'inizio dell'anno il semplice fatto che fossero cominciati i playoff poteva anche essere l'elemento che ti sblocca e ti fa fa click nel cervello che ti permette di superare ma non l'è stato questa squadra è confusa confusa e superficiale ma anche negli atteggiamenti nel modo in cui reagisce alle situazioni poi che c'entra stefan curry potrebbe batterla anche da solo sacramento su singola partita però come ha dimostrato stanotte in gara 3 ma anche se non l'avesse dimostrato fondamentalmente fino a lì dopo tutti questi anni ormai ci s'era arrivati il problema è nell'arco di una serie intera e non su singola partita soprattutto se i compagni non solo non ti aiutano ma anzi forse paradossalmente se possibile ti remano contro perché io capisco di aron io capisco io di aron fox io lo capisco di aron fox io lo capisco ma se fai fa una roba di genere a malicche monche e allora è la difesa che ti porta proprio in automatico fuori dal discorso della contendency discorso che sinceramente al momento per i golden state warriors lo trovo anche proprio fuori luogo se vogliamo cioè ci sono altri argomenti un pochino più importanti e un pochino più urgenti soprattutto di cui parlare tipo tipo perché non sono ancora stati tinti i capelli di tutti i colori a kevin looney cioè verdi rossi gialli capito multiformi che cambiano di partita in partita secondo me ormai è arrivato il momento scusalo dennis ogni tanto dice boiate per riempire il video loro stessi cioè i principali avversari dei philadelphia 76ers in questo momento diversi punti uno sono sempre di più quelli che pensano che maxi sia il secondo miglior giocatore della squadra dopo embid io non necessariamente sono sicurissimo al 100 per cento però credo che questa sia una questione anche più importante alle volte di quello che si potrebbe pensare perché avere delle gerarchie chiare solide ben definite all'interno del gruppo ai playoff è fondamentale perché se noti si ritorce contro due uno contro uno embid non lo tieni non lo tiene brulin ma non lo tiene praticamente nessuno raddoppiato però è raddoppiato la questione inizia a cambiare e su questo aspetto qui più si andrà avanti con le serie perché si andrà avanti con le serie e più le difese avversarie inizieranno a speculare le proveranno di tutte embid lo deve accettare deve star tranquillo e deve capire che una roba di genere è controproducente è proprio un atteggiamento da pollo questa roba qui e se ti fai tirare dentro in questo modo qui da claxton con tutto il rispetto e poi quando ti abita draymond green allora ti porti in tribuna ti porta via tutto quel poco che hai cheat no e poi tre ma non meno importante dato che la serie di fatto è poca roba questi soppassi io vi voglio bene ragazzi capisco che voi giovani siate cresciuti soprattutto con questa cosa dello step back però questo è un pesticio che se lo facevo io ai miei tempi mi tiravano la lavagnetta cioè questi sono proprio passi a me dispiace io vi sogno il cuore veramente mi dispiace però sono proprio passi viene bene per i tip età però considerata anche l'età no io ce lo vedo in barba tipo da balera fare i tip età peccato peccato perché nel 2023 una squadra così costruita così non solo non vince ma non può neanche essere presa in considerazione per questo è un po il discorso mi dispiace perché sono convinto che la palacrenesso sarebbe un posto migliore se ogni tanto per sbaglio una di queste squadre costruite così mentre la gente distratta pigliasse e vincesse qualche cosa però purtroppo non succede so convinto comunque che bruchlin debba continuare su questa strada qui cioè costruendo dal basso è la seconda volta che funziona una squadra più lunga di quello che si può pensare con dei giocatori pronti a fare il salto di qualità pronti a cambiare il proprio status all'interno della lega e soprattutto gente che ha voglia di fare cioè gente positiva e propositiva te immaginati passata un giorno a quell'altro da kairi erving che è affidabile come boris dio con un gruppon dell'enoteca a brigis che l'ultima volta che ha sartato una partita niente niente non ha mai sartato certo all'inizio c'hai un po di scotto da pagare no è un po per l'inesperienza un po per la mancanza anche di 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 riconoscibilità all'interno della lega e claxton l'hanno buttato fuori per questa cosa qui avete visto che cosa ha fatto per essere buttato fuori no e per forza no ha fatto niente prova di forza perché io non credo che finisca 4 a 0 perché su singola partita tre young ti dannoia quanto gli pare però più di miluocchi più di filadelfia più della roba che gira a sacramento questi sono i tre elementi più importanti dei playoff fino a questo momento più di tutta questa roba qui a me mi ha stupito boston teitum delle prime azioni di gara 1 e teitum ogni volta che atlanta ha provato a dare fastidio in gara 2 non è neanche un giocatore con un obiettivo prefissato è proprio uno che viene dai futuro e che quindi è tornato indietro ora c'ha da sbrigare due o tre cose però insomma di fatto lui è venuto a spiegarti come funziona la questione prima di riportare boston alle fine cioè a quel tipo capito di di ineluttabilità accanto a lui poi c'è una squadra che continua a sembrare quella dell'anno scorso rinfrancata nei pochi punti deboli che aveva possibili elementi di rottura dell'equilibrio ve ne sono certo per forza di ose sempre ai playoff gli infortuni quelli in ogni momento per tutti sono sempre un'incognita l'inesperienza di mazzulla contrapposta magari anche al raggiungimento di quota 100 di al orford la paura di vincere che potrebbe sopraggiungere a un certo punto però al di là di tutto questo ora come ora questa mi sembra la 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 migliore incarnazione possibile del concetto dal punto di vista scestistico di immissione la migliore una delle migliori perché poi c'è sempre qualche d'uno che fa un pochino meglio approvato causa effetto da una parte è tra young forza cioè proprio come dna del giocatore capito è il suo modo di giocare e ti condiziona come cosa perché poi sta in campo tanto tiene sempre palla in mano per cui è un elemento che va tenuto in considerazione però dall'altra parte questa squadra qui al netto di eventuali sporadici e estemporanei cinquantelli di tre young quante possibilità potrebbe mai avere di battere questi celtics quattro volte su sette partite probabilmente nessuna quindi sei legato a doppio filo a un giocatore e nel frattempo tanto di perride è stato votato dai propri colleghi in settimana come uno dei più sopravvalutati di tutta la lega è di anno in anno questo scambio qui è diventato nettamente pro atlanta poi invece nettamente pro dallas poi forse positivo per tutte e due alla fine qualcuno ogni tanto azzarda negativo per tutte e due e in tutto questo passano gli anni noi ogni tanto ci si prova ognuno di noi prova a farlo splendido ma non sa tuttora la minima idea di come poter fare per costruire un progetto vincente che ti possa portare concretamente a vincere qualche cosa attorno a questi due giocatori qui con le caratteristiche peculiari che c'hanno quindi quindi vanno fatti giocare insieme scherzo scherzo cuban è una boiata vorrei mai che ci mette nulla a pigliarla su in serio profondità non si parla mai a sufficienza di cleveland di quanto con michel sia effettivamente già pronta per i playoff l'hanno preso per quella roba lì hanno rischiato hanno deciso di andare all in proprio per avere questa caratteristica in più rispetto a quello che avevano a disposizione l'anno scorso di quanto come squadra sia profonda completa quanti altri hanno i harris che possano prendere usciti dalla panchina come se niente fosse di quanto abbiano al proprio interno anche quel seme di unicità che alle volte sboccia anche nei contesti più improbabili sto parlando chiaramente di dario scarland l'anno scorso eravamo rimasti a piccoli allen iverson wannabe quest'anno poi per i primi tre mesi di stagione fino a natale hanno provato a ceccharlo in tutti i modi continuamente di partita in partita non so perché a un certo punto l'avevano presa fine in quel modo lì però poi nel momento in cui ha cominciato a giocare un po' di fila e qui questo siamo a qualche bullone girato di distanza davveramente non lo riappa più eppure in tutto questo poi ti presenti in gara 1 vai inopinatamente sotto al rimbalzo per una mera questione di fame di voglia di volontà nonostante i giocatori che hai a disposizione e pronti via ti perdi subito il fattore campo questo rischio qui c'è ai playoff di pagare un attimo anche lo scotto di non esserci mai stati prima la famosa legge non scritta che devi prima perde possibilmente anche male per poi poter tornare e vincere però i playoff sono questi un giorno ti viene addosso Donovan Mitchell mentre che mangi le patatine il giorno dopo magari rischi Sheck come ai tempi di Phoenix quando aprì la panchina tipo Mar Rosso in quel dell'Arizona ci sono ancora diversi processi di evangelizzazione tra superstiti sopravvissuti e parenti delle vittime Knickerbockers cioè le prime due partite secondo me sono proprio in marchio di fabbrica dei Knicks proprio original trademark 100% official vinci gara 1 trovi Imbranson il leader tecnico ma anche emotivo il giocatore più esperto anche di playoff nonostante anche lui non è che proprio sia però comunque già c'è stato già assaggiato quello che può essere il terreno fertile dei playoff domini al rimbarzo contro Mobley e Allen cosa che non era così scontata prima della palla 2 guarda caso il rimbarzo decisivo per vincere la partita lo tira giù Randall e poi proprio Randall in gara 2 protagonista a suo malgrado perché piglia un'imbarcata e si fa male a partita di fatto bella e finita inutilmente in X cioè non credo che ci sia molto altro da aggiungere in X in un altro contesto magari ci sarebbe da valutare la possibilità possibilità di tenere fuori Randall in gara 3 per poter provare magari a Avello poi al 100% o giù di lì della forma in gara 4 però Tibo Doja ha possibilità lui aveva bello abbandonato la stanza e era andato a far far suicidio a chi aveva giocato meno di 40 mercoledì scorso ci puoi giocare testa i playoff so come 10 anni d'analisi ma davvero eh cioè magari arrivi in fondo non hai capito se è colpa di tu babbo della tua mamma e da piccino non t'hanno comprato la fabbrica dei mostri per Natale però comunque hai fatto lo stesso percorso di scavi interiori di approfondimento proprio scettivo capito prendi Memphis per esempio tutti a parlare giustamente dell'infortunio di Morà perché è chiaro che avere o non avere già Morà in campo ti cambia parecchio anche proprio il panorama della serie però nessuno che si sofferma a pensare e a sottolineare invece quanto faticosamente cerebrale era diventato anche prima dell'infortunio ogni movimento, ogni decisione, ogni parola, ogni gesto di Giamorà dentro e fuori dal campo conseguentemente chiaramente a tutto quello che gli era capitato ormai quanto un mese, due mesi fa tutto incide a livello dei playoff non a caso la reazione di Memphis è arrivata senza Giamorà ecco Brooks faccia a faccia con Lebron questa è la cosa che gli studiosi di strategie militari della storia chiamano il diversivo attestuggine del generale pluridecorato e medagliato Green Dreymond cioè nel momento in cui succede qualcosa di inaspettato che va a minare le tue sicurezze un contrattempo, un qualche cosa che comunque ti mette in difficoltà l'obiettivo è quello di sviare l'attenzione fare qualche cosa affinché le luci dei riflettori degli avversari, dei compagni, dei media, di tutti quegli altri siano puntate rigorosamente su di te dei vanchi pagliaccio se serve l'importante è che si parli solo di te in modo tale da dare al resto della squadra e al gruppo la possibilità di riprendersi il tempo necessario per metabolizzare anche un problema importante come può essere stato l'infortunio di Giamorà e poi ha fatto anche un cortocircuito proprio mentale, gnosologico perché ha detto I poke the bear cioè vado a stuzzicare l'orso in riferimento a Lebron James il can che dorme e in riferimento al fatto che gli orsi i Memphis Grizzlies e poi la cosa riportata anche in Italia assume nell'ultimo periodo delle sfaccettature particolarmente caratteristiche però con questi occhiali qui fondamentalmente poi di quello che ti pare di Ion Anthony Davis e ora voi mi direte sei fissato e io lo capisco cioè ci sta da parte vostra che possa venire questa critica però date retta a uno che ormai so 30 anni ininterrotti quasi che guarda questo giochino qui va bene Lebron va bene Giamorà va bene Dion Brooks vanno bene gli adjustments vanno bene gli assenti vanno bene va bene tutto ma questa serie qui passa da questo giocatore qui e andiamo bene in effetti a vederlo così qual è stata la principale differenza tra gara 1 e gara 2? Hashimura e Ribs? secondo me no perché se in gara 1 hanno giocato la partita perfetta Hashimura e Tiro Ribs in the clutch non è che gara 2 l'abbiano proprio guardata anzi il loro impatto l'hanno avuto comunque non sono evaporati come profetizzava qualcuno in quel di Memphis dopo gara 1 la differenza è stata che in gara 1 soprattutto nel primo tempo che ha giocato di fatto da top 3 giocatore della Lega Anthony Davis ha settato il livello dell'intensità fisica su altri paradigmi che per tutti gli altri giocatori in campo sono difficili da poter raggiungere poi però secondo tempo e soprattutto gara 2 sta un altro giocatore lento a rientrare in difesa in ritardo a uscire sui close out disattento sui aiuti difensivi soft palla in mano questo è Conchar John Conchar cioè non è Tio Ratliff è John Conchar e poi onestamente ragazzi due partite due scenette di questo tipo ma come ci si presenta a noi a sperare che questo arrivi in fondo a playoff cioè seriamente io boh è più facile che i cinesi in gioco azzecchi un pronostico con tipo tre anni d'anticipo piuttosto infortuni l'anno scorso Miluoki non ha vinto non è arrivata in fondo per l'assenza di Chris Middleton questa è un'opinione più o meno pacificamente condivisa da tanti quest'anno Chris Middleton ha passato tutta la stagione regolare a fare dentro e fuori dall'infermeria si è presentato ai playoff con un'affidabilità che manco Harry Erving a maggio quando si dice che vuole rimanere il prossimo anno però comunque c'è stato e ti si è rotto Giannis ora posto che senza Middleton i Bucks non possano vincere e l'hanno più o meno anche dimostrato l'anno scorso senza Giannis fanno proprio anche fatica a partecipare ma non è una critica nei confronti della squadra nei confronti di Miluoki anzi è una delle formazioni più lunghe più complete in un ipotetico campionato formato da tutte le squadre NBA ognuna senza le proprie stelle Miluoki potrebbe arrivare fino in fondo il problema è che ai playoff NBA di 2023 senza una stella non sei competitivo senza la o le stelle della propria squadra l'infortunio secondo me l'hanno gestito anche bene fuori in gara 2 ti dai tempo di recuperare giochi sull'orgoglio degli altri li metti anche di fronte alle loro responsabilità perché poi alla fine fossero andati 0-2 la situazione cominciava a essere trita però li responsabilizzi gli dai fiducia li fai giocare anche in maniera un pochino diversa rispetto al solito questa è stata la grande differenza perché se è vero come è vero che Miluoki non è abituato a giocare senza Giannis è altrettanto vero che anche le difese non sono abituate a gestire una squadra senza Giannis tiratori palloni dentro per i lunghi rotazioni che cambiano completamente nel breve periodo parlo di una partita paradossalmente è una cosa che può dare più noi agli avversari che non sono abituati non hanno preparato la serie per giocare senza Giannis che noi Miluoki Bucks nel breve periodo ovviamente ripeto una partita perché poi già dalla seconda e poi andare andare è bisogno che tu lo rimetta in piedi in tutti i modi per forza di cose già che quella schiena ne aveva buscate recentemente Flu Game chi c'era chi l'ha vista magari anche dal vivo se non in diretta racconta proprio di questa cosa qui della partita storica di MJ e lui prima della partita con i Cencio in capo l'asciugamano era lì a bordo campo e era come se stesse ripassando dentro la propria testa tutto quello che sarebbe successo dopo azione per azione quello che avrebbe dovuto fare come se avesse Bell e visto i firme della partita e dovesse ripassassi copione ecco ai playoff Jimmy Butler è un po' in trance da Flu Game senza far confronti attacca gli spazi usa le posizioni i corpi addirittura i corpi di compagni e avversari li usa li sposta li muove capito tipo direttore d'orchestra con la bacchetta come se fossero birilli ovviamente non sto paragonando le due situazioni anche meramente per una questione di palmaresse il confronto di palmaresse tra Jordan e Jimmy Butler è talmente ingeneroso a pro di Michael Jordan che manco quello dei capelli a pro di Jimmy Butler però questa è l'unica carta che può effettivamente giocarsi Miami soprattutto dopo l'infortunio di Tyler Irro che rappresentava l'elemento di brillantezza anche di frizzantezza fuori dagli schemi giocatore che poteva creare anche con un pochina più di inventiva a livello offensivo senza di lui l'obiettivo di Miami è quello di provare a allungare il più possibile la serie anche buttandola in cacciara volendone tentativo proprio di far paura agli avversari sudore lacrime e sangue come diceva il compagno di banco di Udonis Aslem quando andavano a scuola insieme ai tempi Jamal Murray c'è stato un dibattito lungo anni in quel di Denver non tanto su come fosse tornato Jamal Murray dall'infortunio quanto piuttosto su che tipo di giocatore fosse effettivamente Jamal Murray perché secondo tanti c'era un po' la possibilità che noi tutti fossimo vittima del cosiddetto bias di TJ Warren cioè il giocatore della bolla era un tipo di giocatore però quello che succede nella bolla rimane dentro la bolla ecco no attenzione un quarantello in gara 2 di primo turno contro Minnesota non vale come prova definitiva a supporto della mia tesi che vuole effettivamente Jamal Murray essere uno vero a tutti gli effetti a tutti i livelli però comunque è un qualche cosa che ci aiuta un attimo a fomentare una discussione che diventa in questi giorni sempre più interessante sempre più coinvolgente in quel di Denver perché poi per il resto la serie non è che ci abbia regalato chissà quali spunti la 1 contro la 8 da una parte una squadra che ha pagato due lire per un giocatore nittardo secondo giro e poi invece l'ha portato a essere due volte forse MVP della Lega contro dall'altra parte una squadra che invece si è impegnata presente passato futuro sordi gli ha lavato la macchina gli ha rimboccato le coperte aiuta pur di avere in cambio il most raccoglitore di farfalle of the season evidenza come quella che credo metterà la dirigenza di Minnesota in estate di fronte alle proprie responsabilità cioè c'è un fenomeno per qualità tecnica fisico attitudini anagrafe un fenomeno hai provato a remagli contro in tutti i modi cercando di metterlo nella condizione tecnica più difficile per lui che potessi esprimere coi due lunghi sotto canestro e ora basta cioè ora fondamentalmente d'estate devi cercare di risolvere la questione che non è facile perché dare via Rudy Gobert è un bagno di sangue dare via Carl Anthony Town potrebbe essere per quello che può diventare l'errore più grande dai tempi in cui pensavi che la Sprewell potesse essere tenuto sotto controllo per cui non è facile però io direi che può essere cominciato intanto già il momento di porci mente anche perché questa serie qui fondamentalmente se non è 4-0 è 4-1 e anche i tentativi che avevi provato di cercare di risolverla con l'ammutinamento interno non sono andati bel tentativo lo riconosco ma non ha funzionato mi hanno riassorbito i golpi di risolverla